Un saluto ragazzi, come state? Di nuovo buona giornata da Milanello, la casa del Milan e dei campioni d'Italia su YouTube. Se siete campioni d'Italia iscrivetevi qui sul logo di Milanello e lasciate un bel like qui sotto. Ragazzi, vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball con tutte le notizie esclusive Calcio Mercato Live. Qui sotto c'è il link personalizzabile anche a seconda della vostra squadra del cuore, che nel nostro caso ovviamente è la C-Milan. Gratuita OneFootball, basta cliccare qui sotto. Questa mattina un video in cui abbiamo commentato l'uscita del nostro ex giocatore turco, davvero imbarazzante, per chi non l'avesse ancora visto lo proporrò in sovraimpressione al termine di questo video. Integrato con un concetto che lui poi ha smentito di aver detto certe cose, è stato malinterpretato su Inzaghi, risulta che l'Inter lo stia per multare. Davvero sono d'accordo con mister Carlo Pogliani che mi diceva che avevamo in casa due non-geni. Uno il portiere Donnarumma, l'altro Celanoglu appunto, che ogni volta che parla dovrebbe pensare dieci volte appunto prima di parlare. Vi anticipo anche che nei prossimi giorni ci sarà un video proprio con Carlo Pogliani in cui parliamo del portiere e anche di Celanoglu. Senza, l'abbiamo fatto ieri, però ha preso sopravento questa dichiarazione e poi nel video dico non ha ancora parlato, in realtà ha parlato, però ecco, nel weekend poi ve lo proponiamo. Allora, c'è un giallo clamoroso, intanto però ha una serie di notizie molto importanti. La prima, Colombo, il nostro Colombo che dovrebbe andare in prestito a Lecce, in via definizione il prestito, quindi giocatore che insomma rimane un altro anno a farsi le ossa e sicuramente sarà una tappa importante nel suo percorso formativo, dopo che l'ultima stagione aveva iniziato molto bene e poi ha avuto qualche difficoltà. La seconda notizia esclusiva di calciomercato.com, oggi a pranzo appunto incontro tra il nostro Massara e Tiago Pinto, il dirigente giallorosso, si è parlato di Florenzi, la definizione del riscatto di Florenzi con gli ultimi dettagli, ma anche di Zaniolo che oggi con il suo agente, il suo agente insomma incontrava proprio la Roma, quindi una giornata un po' da monitorare anche per questo, soprattutto però il riscatto di Florenzi e capire anche quali eventuali operazioni si possono fare. Di Cristante avevamo detto, non è un nome caldo, è una proposta che è stata fatta un mesetto fa dal suo agente riso, sarebbe importante per il Milan per la questione di liste, ma in realtà il Milan a oggi non è su Cristante, ci sono altri obiettivi. Sempre Renato Sanchez, adesso andiamo sul giallo clamoroso. Nel frattempo Enzo Fernandez a 10 più 8 di bonus si è a casa al Benfica, lui aspettava il Milan, questo può lasciare intendere che o si è stufato del Milan o il Milan gli ha detto puoi andare in bocca al lupo. Operazione secondo me molto 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 ben fatta e interessante del Benfica, sono molto curioso di vederlo in Europa in un campionato intermedio appunto come quello portoghese. Dopodiché, il Milan ricerca il trequartista, attenzione sempre a De Ketler, oggi dall'Inghilterra raccontano anche del Leeds sul giocatore, si era parlato dell'Eister, del Leeds, quindi club inglesi al momento non mi sembra così insuperabili a livello di concorrenza, c'è il problema cartellino, attenzione anche a Traore del Sassuolo, che ha come agente, come vi dicevo, lo stesso Di Pioli, con cui ci sono ottimi rapporti con Massara, avevamo fatto un video in anteprima due o tre settimane fa, tre settimane fa credo, quel weekend da Ibiza di Maldini e Massara, proprio ospiti dei fratelli agenti del giocatore, che è forte, è forte forte forte, sinceramente lo vedo un po' più sulla sinistra, oggi la Gazzetta diceva se sfuma Sanchez, ma sono due giocatori diversi, uno è un centrocampista, l'altro è un esterno trequartista, mi sembra, lui ha giocato prevalentemente a sinistra nella posizione di Leao, il Milan ci pensa più come trequartista, insomma il Milan vuole spendere per il trequartista, abbiamo capito, le priorità sono un po' cambiate, nell'ordine De Ketlar c'è Traore sicuramente, che costerebbe meno rispetto a De Ketlar di cartellino, non avrebbe il decreto crescita di ingaggio, ma parliamo di cifre basse, quindi questo non fa la differenza, attenzione a Paolo Di Bala, una cosa la voglio precisare prima di andare nel giallo, ieri abbiamo parlato di Di Bala, e ogni tanto ci sono dei commenti un po' sgradevoli che secondo me si potrebbero evitare, ovviamente ognuno può dire la propria, sempre con civiltà, ma anche rispetto, scrivere certe, io mi sono permesso di dire, secondo me Di Bala accenderebbe l'entusiasmo, e c'è chi scrive in maniera sgradevole, vaia, puntini puntini, cosa dici, io ovviamente è il mio parere, non è il parere di tutti, si può dire io non sono d'accordo, io la penso così, e un'altra cosa, non illuderci su Di Bala perché devi soltanto per i click, sono ragazzi balle, se pensate così non seguitemi, sono il primo io a dirvelo, credo con me si è creato un rapporto di fiducia, di credo apprezzamento reciproco, anche legame reciproco, perché io vi considero dei buoni amici, anche se non ci conosciamo tutti, qualcuno di voi l'ho conosciuto, se pensate questo non ci siamo proprio, di Di Bala ne stanno parlando un po' tutti, e poi ascoltate i video, nel video sono il primo a dire, in pole resta l'Inter, però l'Inter non ha chiuso, per questo motivo, perché non c'è l'accordo sull'ingaggio, perché non c'è l'accordo sulla commissione, ballano 4 milioni di euro, perché l'Inter prima deve cedere due tra Sanchez, Correa e Dzeko, resta in pole, non voglio illudermi però, attenzione perché il Milan sta valutando, valutando, sta monitorando, ma perché devi dire una cosa del genere, non arriviamo mai a certi ingaggi, neanche l'Inter arriva a 7, ci sono i bonus, si può discutere di cifre inferiori, si possono fare anche delle eccezioni, ricordando che è un parametro 0, quindi non arriverà, possibile, non è certo, va sicuramente al 100% all'Inter, no, al 100% nel mercato non c'è nulla, e ricordo tanti messaggi, tanti insulti che mi ero preso quando vi dicevo su Tonali, che tutti davano all'Inter, attenzione perché sotto sotto il Milan qualche speranzella ce l'ha, il Tonali è andato al Milan, non sto dicendo che sarà la stessa cosa, però sto dicendo che è una pista da seguire, non significa illudere, questa è la premessa, dopodiché ne stanno parlando tutti come vedete, quindi o tutti si divertono a spararla, ma non mi sembra proprio, proprio in un rapporto che credo ci debba essere di fiducia dopo tanto tempo. Ebbene, il giallo, il giallo è clamoroso, il giallo è davvero da capire, decifrare insieme, la notizia è del Corsera, l'ho verificata ed è assolutamente verificata, tra l'altro la collega Monica Colombo non ha bisogno neanche di verifiche, oggi ha scritto che ieri c'è stato un contatto diretto tra Elliot, manager di Elliot, e entourage di Dybala, cioè l'agente Antun, per capire quali sono davvero le reali richieste e se c'è un margine di manovra perché lui riveda il ribasso. Un approccio che non è il primo, perché come vi dicevo un paio di mesi fa già Maldini aveva preso informazioni, ma allora Dybala chiedeva 9 milioni, Maldini si è girato e se n'è andato, in maniera metaforica, oggi le cose sono molto cambiate, un approccio ufficiale da parte della proprietà che è sicuramente significativo. Oggi Elliot ha cercato di smentire, ma vi possiamo dare per certo che questo approccio c'è stato, anzi risulta che il tentativo di smentire da parte di Elliot, usiamo il condizionale, sarebbe un tentativo di non irritare Maldini, che non ha preso bene ovviamente questo essere scavalcato di fronte a una manovra di mercato, perché di questo si tratta. Il giallo dov'è? Perché deve chiamare Elliot, il manager entourage di Dybala, e non lo chiama Maldini, e non lo chiama Massara, che comunque sono operativi anche se non hanno ancora questo rinnovo. E poi, perché Elliot e non Redbird? Ci sono una serie di domande che questo incontro sicuramente fanno sorgere spontanee. Dall'altra parte, questo rinnovo lo attendiamo con ansia, non arriva, 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 non arriva, speriamo davvero di arrivare il prima possibile, però ecco, questo incontro ci dice due cose. Primo che il Milan, e la conferma, e non sto illudendo nessuno, è vigile su Paolo Dybala, che nel frattempo si è un po' indispettito nei confronti dell'Inter, che sta facendo tutto, ma lascia lì a bagno Maria Dybala. Il secondo aspetto è che c'è ancora una catena di comando un po' contorta, e un'operatività che è un po' divisa, perché ripeto, non deve essere Elliot, ma deve essere Maldini a chiamare. Perché vanno oltre, pensano che Maldini andrà via, o lo fanno per irritarlo, tanto loro usciranno, o non vogliono più Maldini, insomma non lo so ragazzi. È una cosa molto molto complicata da capire, e di fatto però prendiamo il lato buono, cioè che comunque il Milan davvero sta provando a capire se per Dybala c'è margine oppure no. Se Dybala basso un po' le pretese, il Milan questa corsa prova a farla, e prova ad arrivare prima di tutti. In ogni caso il rinforzo forte sarà la sua tre quarti, De Keter, Traoré, suggestione Dybala, ripeto, non certezza, suggestione Dybala, che è un po' in ebollizione nell'ultimo periodo. Datemi anche voi la vostra chiave di lettura rispetto alla chiamata di Elliot, di manager di Elliot e non di Maldini, resta sullo sfondo un grande caos, che speriamo possa essere superato in tempi brevissimi. Perché davvero è una telenovela che... basta, basta, basta. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi qui, attivate la campanella numerosissimi, la magliata di Milanello la trovate su milanello.com. Un abbraccio e mi raccomando, quando indossate questa maglia, date una carezza per me allo scudetto e taggatemi mentre le indicate, alla faccia anche di quello che faceva così. Vi rimando al video su C'è la NoGlu, iscrivetevi ragazzi.